Ciao a tutti e benvenuti qui su questa nuova puntata di Formula 1 Real Talks, la mia rubrica che parla della Formula 1 reale e delle tematiche più interessanti che emergono dai GP di Formula 1, quest'oggi puntata relativa agli ultimi due Gran Premi della stagione 2023, una puntata che arriva in ritardo, in netto ritardo, parliamo quindi delle ultime due gare di campionato cercando di essere un po' più sintetici del solito, prima di tutto perché questo video parlerà di due gare e non solamente di una gara e in secondo luogo perché ormai è passato un anno da quando sono stati i corsi GP di Las Vegas e di Abu Dhabi, quindi non ha neanche senso fare un'analisi iper approfondita di un evento che ormai c'è stato parecchio tempo fa. Quello di cui mi preme parlare però in primo luogo per quanto riguarda il GP di Las Vegas è la situazione per quanto riguarda i tifosi, lo scandalo che c'è stato il venerdì sera prima della seconda sessione di prove liberi quando i tifosi sono stati cacciati via letteralmente a calci in culo dall'autodromo senza neanche aver potuto vedere azioni in pista perché la prima sessione di prove liberi è stata interrotta subito per il caos generato dal tombino e poi la seconda sessione di prove liberi i tifosi non l'hanno vista perché sono stati cacciati via. Quello che mi viene da pensare a me è che io non sono un pilota, sono un tifoso, quindi nel senso l'azione in pista che riguarda i piloti ok è bello parlarne ma io prima di tutto sono un tifoso e questa cosa mi coinvolge a me personalmente visto che io ho visto anche dei gran premi dal vivo e in questa situazione mi ci potrei trovare anch'io in futuro. La domanda che mi sono posto è ma a questo punto ma io tifoso che compro il biglietto per assistere al GP di formula 1 che cos'è che compro? Quel biglietto che compro? A cosa mi dà diritto? A niente, a una beata minchia mi verrebbe da dire perché se io nonostante abbia il biglietto posso essere tranquillamente cacciato via senza nessun preavviso senza nessun motivo a 10 minuti dall'inizio della sessione che io ho pagato per vedere e mi possono cacciare via addirittura se mi rifiuto mi chiamano la polizia a mandarmi via con la forza allora che cos'è che compro io col biglietto? Quali sono i miei diritti? Questa è una cosa, questo è uno scandalo, qui si è creato un precedente ragazzi qui è, qui si è creato un precedente cioè io adesso so che qualora in futuro dovessi comprare un biglietto per andare a vedere un altro GP di formula 1 dal vivo so che da un momento all'altro mi potrebbero cacciare via senza preavviso senza motivo e se mi rifiuto di andarvene via chiamano i carabinieri e hanno ragione loro e so anche che avrebbero ragione loro e allora che per cosa gli spendo a fare i soldi? Io già ho smesso di andare a vedere GP di formula 1 dopo il 2017 andai a monza c'era nato anche già parecchi anni prima ma nel 2017 mi hanno fatto incazzare perché praticamente hanno aperto i cancelli della della pista quando ormai era già in corso la gara di formula 3 e io a meno che a meno di non passare sopra gli altri non avevo assolutamente non avrei avuto assolutamente modo di sedermi in tribuna e vedermi la gara di formula 3 perché i cancelli li hanno aperti quando la gara era praticamente già iniziata si sentivano già i motori che forse si stavano schierando in griglia magari la gara non era già iniziata ma una volta che apri i cancelli c'è fila e non era fisicamente possibile entrare in autodromo e prendere posto nei propri posti insomma prima dell'inizio della gara di formula 3 che io ho pagato per vedere perché c'è nel biglietto inclusa anche la formula 3 uno può dire vabbè ma la formula 3 cosa te ne frega voi che ne sapete io magari avevo un amico che correva in formula 3 ed era andato lì apposta per vedere la formula 3 cosa ne sapete voi uno non è che non è mica detto che uno vada lì apposta per la formula 1 e comunque anche se ci va apposta per la formula 1 un appassionato giustamente ha piacere anche di seguire le altre categorie visto che le ha pagate le ho pagate tanto vale che vado a vedere anche la formula 3 visto che il biglietto comunque il prezzo è quello no poi ripeto uno poteva benissimo avere un amico che correva in formula 3 magari era nato lì a monza apposta per vedere la formula 3 magari della formula 1 non gliene frega niente e questo già è già lì da quel giorno lì dopo gp di formula 1 non ne ho più visti dal vivo perché non io mi sono sentito onestamente preso per il culo da una situazione del genere poi addirittura e io già mi ero offeso per quella roba lì pensate quanto mi sarei offeso se mi avessero cacciato via calci in culo prima dell'inizio della sessione che avevo pagato per vedere nel mio caso non mi avevano fatto entrare in tempo nel caso lì a las vegas li hanno cacciati via però il morale della favola più o meno è sempre lo stesso io penso che noi tifosi dovremmo tra virgolette in qualche modo farci sentire un po di più farci rispettare un po di più magari smettendola di comprare biglietti a prezzi folli come ho fatto io dopo il numero di 17 non per i prezzi perché in tutta onestà sono messo bene a soldi i prezzi se io volessi andarmi a vedere un gran premio anche spendere 3 4 5 600 euro non sarebbero un problema ma è una questione di principio è una questione di principio poi monza è una roba fatiscente a monza sotto la tribuna della parabolica ci sono ancora i cadaveri degli spettatori morti nell'incidente del 61 è per farvi capire come come ridotta monza come c'è una cosa proprio che ci sembra un a tratti certe infrastrutture sembra che siano abbandonate da da secoli sembra ci si potrebbe girare un film post apocalittico ci si potrebbe girare è una roba veramente veramente assurda io preferisco centomila volte andare a imola misano a vedere moto gp superbike e una vagonata di altri eventi sarei probabilmente andato a imola visto che ci abito anche vicino a vedere gp di formula 1 solo che per ora non ce n'è mai stata la possibilità non c'è mai stato un gp di imola pulito senza o restrizioni di qualche tipo per gli spettatori o senza che il gp venisse annullato come appunto successo quest'anno però ecco questo è un argomento che mi dovrebbe a noi tifosi starci molto a cuore perché a las vegas si è visto che in realtà il biglietto di accesso all'autodromo è solamente un pezzo di carta che non vale assolutamente niente cioè ti dà diritto ad entrare in autodromo poi però ciò non toglie che cinque minuti dopo ti possono far uscire via cacci in culo ecco giustamente il biglietto ti dà diritto ad entrare in circuito dopo ti possono anche cacciare questo non c'è scritto però evidentemente evidentemente è così parliamo adesso del gp se per sé di las vegas in molti si sono ricreduti dopo lo scetticismo è durato fino a prima della gara insomma e adesso las vegas è diventata praticamente la pista preferita di tutti visto che la gara è stata bella è stata emozionante e tutto quanto però però perché la gara è stata emozionante la gara è stata emozionante perché il circuito di las vegas è un circuito diciamo così troppo semplice troppo poco tecnico e la mancanza di di curve da pelo come può essere come possono essere le curve di suzuka cioè tutto rettilineo praticamente è chiaro che un circuito così va per forza di cose ad appianare la differenza che c'è fra le varie macchine e fa risultare una la gara molto più equilibrata con distacchi molto minori con risultati quindi molto più incerti e poi ciliegina sulla torta rettilinei chilometrici più di rs uguale sorpassi ma non è merito della pista grazie al cacchio metti dei rettilinei lunghi di rs è ovvio che ci sono i sorpassi non metti curve veloci curve da pelo curve dove conta più di tanto il bilanciamento della macchina quindi non metti neanche dei punti dei tratti della pista in cui una macchina può fare la differenza sull'altra ed ecco che c'è una gara equilibrata allora ragazzi corriamo sugli ovali come nella indicar e li vedete che gare spettacolare che saltano fuori correndo sugli ovali avremmo delle gare con migliaia migliaia di sorpassi avremmo delle gare probabilmente decisi in alcuni casi anche in volata al photo finish magari con sette macchine che arrivano racchiusi in mezzo secondo e quale sarebbe la gara più spettacolare della storia corriamo sugli ovali allora se questo che volete cioè però non sarebbe una cosa veritiera cioè ragazzi las vegas è una pista così a una pochezza tecnica di tale livello che addirittura lì a las vegas la ferrari sembrava a livello della red bull se il mondiale si fosse corso tutto las vegas la ferrari magari se lo sarebbe giocato fino alla fine magari avrebbe pure vinto visto che globalmente la ferrari andava più forte della red bull ma io mi chiedo una pista che fa sembrare una ferrari a livello della red bull è una pista che merita di stare in calendario cioè il formula 1 deve venire fuori il migliore la macchina migliore non ci devono essere delle piste che vanno ad appianare così tanto le differenze tecniche fra le varie macchine poi sì in un gran premio in un campionato con 37 gare ci sta avere una gara di questo tipo ci sta se il campionato fosse stato di 15 16 17 gare come 25 30 anni fa allora un po meno però in un campionato così lungo una gara del genere ci può anche stare però non andiamo a dire a che bello las vegas ha se solo tutte le gare fossero così no perché una gara quando è che emozionante una gara emozionante quando è equilibrata quando ci sono almeno due macchine o piloti in grado di giocarsi la vittoria e questo spesso va a essere cioè è inversamente proporzionale rispetto alla qualità del tracciato non a caso su piste molto tecniche che esaltano la guida esaltano anche il bilanciamento della macchina come suzuka a suzuka spesso ci sono state delle gare veramente noiose perché a suzuka viene esaltata tantissimo la macchina e se c'è una macchina nettamente superiore alle altre ecco che suzuka si assiste al dominio della macchina migliore la gara perde di interesse già dopo i primi giri mentre su piste poco tecniche come appunto las vegas con i valori in campo molto più livellati perché non ci sono zone della pista in cui una macchina migliore può fare la differenza ecco che si assiste ad una gara equilibrata e spettacolare ma lo spettacolo è dato dalla pochezza tecnica della pista cioè il segreto per avere delle gare spettacolari sarebbe avere delle macchine abbastanza livellate come prestazioni un esempio il 2021 è stata una delle stagioni più equilibrate della formula 1 moderna con mercedes e red bull a giocarsi il titolo fino all'ultimo giro dell'ultima gara e in una gara andava un po meglio la mercedes e in un'altra gara andava un po meglio la red bull in un'altra gara erano più o meno pari cioè lì nel 2021 se vi ricordate è stata emozionante persino la gara di francia gp di francia al paul ricard al fottutissimo paul ricard è stata emozionante persino quella gara lì perché si è decisa al penultimo giro con verstappen che ha raggiunto emilton e lo ha superato al penultimo giro quindi voi direste mai che il paul ricard è una pista bella spettacolare emozionante che merita di stare in formula 1 siete forse rattristati per il fatto che il gp del paul ricard sia sparito dal calendario non penso eppure nel 2021 il paul ricard abbiamo avuto una gara veramente bella decisa al penultimo giro ma non è merito della pista del paul ricard se quella gara lì è stata spettacolare il merito è stato del fatto che in quella gara lì c'era un grande equilibrio prestazionale fra mercedes e red bull è quello il segreto di avere delle gare spettacolari non la pista in sé per sé quindi occhio a dire che la svea fossero tutte così le piste come las vegas e no fossero tutte così le piste si avrebbe un campionato falsato magari la red bull non avrebbe neanche vinto il mondiale e sarebbe un c'è un disastro nel senso se avere delle piste così brutte così tecnicamente di basso livello da addirittura da non farne anche vincere la macchina migliore sarebbe veramente scandaloso molto bene quindi ora passiamo al lato sportivo del gp di las vegas vedete in sovrimpressione le pagelle così non perdiamo tempo le pagelle dai le vedete non le sto a commentare in maniera più di tanto approfondita e mentre vedete le pagelle parliamo appunto del gp in sé per sé ed è stato un gp che avrebbe potuto essere una vittoria ferrari perché di fatto senza la safety car arrivata per la collisione fra verstappen e russell le clerk mi sento di dire che molto probabilmente avrebbe vinto era in una situazione di vantaggio abbastanza netta e visto poi come la ferrari si è comportata dopo la safety car nell'ultima parte di gara in inferiorità di gomma rispetto alla red bull mi viene da pensare che in una situazione di sostanziale equilibrio senza la safety car e con anche quei 4-5 secondi di vantaggio che aveva mi viene da pensare che senza la safety car le clerk avrebbe potuto vincere il gran premio e questa sarebbe stata l'unica vittoria della ferrari contro la red bull e voi direte ma sainz a singapore ma sainz a singapore non ha vinto contro la red bull eh sainz a singapore ha vinto contro norris ha vinto contro le mercedes ma non contro la red bull le red bull erano sperse erano indietrissimo infatti aperta parentesi quelli che dicono ah fortuna che sainz ha vinto singapore altrimenti senza la vittoria di sainz a singapore sarebbe stata una stagione con tutte vittorie red bull ma che cazzo dite se sainz non avessi vinto singapore avrebbe vinto norris che è arrivato secondo o avrebbe vinto una delle due mercedes non è che sainz ha vinto singapore contro le controverstappen così come anche si dice sempre della stagione 1988 ha fortuna che c'è stata la doppietta ferrari a monza altrimenti la stagione avrebbe visto tutte vittorie mclaren no perché le ferrari lì a monza 88 non hanno vinto contro le mclaren le mclaren erano fuori gara sono esplose tutte e due le mclaren se non avessero vinto le ferrari avrebbe vinto quello che è arrivato terzo che ora come ora non mi ricordo che è arrivato terzo ma non avrebbe vinto la mclaren anche lì non sarebbe stata una stagione solo di vittorie mclaren se la ferrari non avessi vinto nell'88 a monza stessa cosa senza la vittoria di singapore di sainz sarebbe stata la vittoria di di norris o di una delle due mercedes non della red bull perché la red bull era indietro e questa qui di las vegas poteva essere l'unica vittoria ferrari proprio correndo direttamente contro la red bull perché qui la red bull c'era e non era spersa come singapore e di fatto leclerc la gara tra virgolette l'aveva già vinta o quasi insomma poi non si può mai sapere magari avrebbe fatto la rimonta verstappen così diciamo che mi sento di dire di dire che al 60 per cento leclerc avrebbe vinto il gp di las vegas poi c'è stata quella safety car forse un po eccessiva perché non è che c'erano macchine da rimuovere c'erano solo un po di detriti e forse magari ci stava un po meglio una virtual magari safety un po eccessiva che paradossalmente è andata a favorire verstappen e che era proprio uno dei due piloti coinvolti nell'incidente nel contatto che appunto ha causato la neutralizzazione per quanto riguarda poi anche verstappen in molti ci sono scagliati contro l'olandese per la presunta scorrettezza al via dove ha buttato fuori leclerc sostanzialmente arrivando lungo ma appunto arrivando lungo ragazzi ma non l'ha fatta apposta io leggo dappertutto che verstappen è stato scorretto che l'ha fatta apposta ragazzi ma è arrivato lungo gomme freddissime asfalto freddissimo traiettoria quella di max molto interna quindi non era neanche la traiettoria ideale per affrontare quella curva verstappen è arrivato lungo e arrivando lungo ha trascinato fortuitamente con sé anche charles clerc spingendolo fuori e guadagnando così la posizione in maniera indebita penalità giusta per carità ma non è stata la scorrettezza è stato un incidente come non lo so nel calcio è un giocatore inciampa e mentre inciampa va a cadere addosso a un avversario e fallo che ma non è fallo volontario e c'è invece qui a verstappen è tornato quello del passato è tornato il verstappen di cinque anni fa il verstappen scorretto ragazzi è arrivato lungo una curva anche alonso è arrivato lungo in curva 1 e si è girato anche sainz è arrivato lungo in curva 1 si è girato però verstappen è scorretto però alonso e sainz hanno fatto degli errori mentre verstappen l'ha fatto apposta ad arrivare lungo ma io veramente non capisco questo questo accanimento verstappen di scorrettezza ne ha fatte in vita sua ne ha fatte ma questo è un errore di guida non si può neanche arrivare lunghi adesso c'è veramente io non non ho veramente parole bisognerebbe avere un minimo di sali in zucca quando si analizzano gli episodi di gara poi comunque ripeto la penalità è giusta perché comunque verstappen ha superato le clerke in maniera irregolare e questo su questo non ci piove ma nella maniera più assoluta non è stata la scorrettezza volontaria assolutamente e poi sempre tornando all'organizzazione del gp di svegas ho parlato della gestione degli spettatori così chiaramente non serve neanche parlare di dell'organizzazione in sé per sé e proprio del della pista dell'evento perché quando il gp il risultato del gp viene condizionato in maniera nettissima da carenze organizzative e carenze costruttive della pista come nel caso del tombino che ha preso sainz questo è un gran premio che c'è adesso è d'attualità il gp di singapore 2008 che si dovrebbe annullare anche questo gp qui non è stato proprio pulito perché il risultato è stato falsato da fattori completamente esterni come il tombino che ha colpito la monoposto di sainz e che lo ha costretto a partire indietro senza quella penalità lì ingiusta carlos sainz sarebbe partito lì in seconda posizione e anziché arrivare lungo in frenata e girarsi scivolando in ultima posizione il buon carlos sainz partendo secondo avrebbe probabilmente sbagliato la frenata e sarebbe finito addosso alle clerche buttando fuori entrambe le ferrari no vabbè no però sainz ha sbagliato la frenata della prima curva partiva a merdesimo ha coinvolto stato coinvolto anche forse il tipo lì con bottas e altri due tre piloti ok però se faceva questa frenata qui questo errore qui partendo secondo c'è caso che si durava le clerche e magari avremmo avuto due ferrari fuori nella prima curva chiaro sto scherzando nel senso che per un principio di causa effetto sainz se fosse partito secondo in una posizione diversa della pista magari non avrebbe fatto quell'errore così eccola però diciamo che sainz non è stato proprio impeccabile nelle ultime due gare poi quando parleremo di abu dhabi a maggior ragione è venuto su abbastanza bene ok però quell'errorino lì della prima curva poteva e doveva evitarlo e forse qui staremmo a parlare di una ferrari seconda nei costruttori senza quell'errore lì dove carlos è stato costretto poi a recuperare dall'ultima posizione e poi vedete anche adesso i voti per quanto riguarda i team così giusto brevemente senza parlarne più di tanto ferrari molto 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 bene per quanto riguarda la competitività della macchina anche se la sensazione come ho detto in precedenza è che la ferrari sia nata bene più che altro per merito della pista non è chiaro se quella stessa ferrari lì contro quella stessa red bull lì avessero corso in quel giorno lì anziché a las vegas avessero corso in olanda secondo me la ferrari si sarebbe presa un giro sembrava forte perché la pista andava ad appianare le differenze fra le varie monoposto però è comunque un dato di fatto che la ferrari è andata bene molto male la mercedes la sua diretta rivale anche se poi alla fine è molto male soprattutto russell poi come come pilota più che altro più che la mercedes perché in fondo la mercedes tanto male non andava ok era lenta in rettilineo ok ma russell era lì a lottare per il podio e ha commesso un gravissimo errore andando a colpire max verstappen un errore che ha rischiato seriamente di compromettere la posizione della mercedes nel campionato costruttori emilton molto 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 opaco in queste ultime gare di campionato dopo il messico nelle ultime tre gare luisi emilton veramente è sparito dai radar non dico che ha compromesso la sua stagione con le ultime tre gare opache perché comunque finito terzo in campionato comunque ha asfaltato russell però se fino al prima del gp del brasile se fino al gp del messico la sua stagione è stata quasi impeccabile l'unico errore grave è stato quello del catar ecco che nelle ultime tre gare abbiamo ritrovato purtroppo un emilton opaco come nel 2022 e come in molte gare del 2021 dove si è fatto battere da verstappen quando in teoria avrebbe potuto fare meglio come una su tutte poor ricard 2021 e niente vedete dai anche gli altri voti relativi ai team parliamo adesso del gp di abu dhabi che ha visto un po ribaltone in classifica piloti un miscuglio incredibile con aluncio leclerc che finiscono a pari punti norris a 205 sainz addirittura settimo a quota 200 come rovinare un'intera stagione in un solo weekend di gara per quanto riguarda il madrileno della ferrari la cui stagione adesso purtroppo è considerabile negativa sotto tutti i punti di vista possibili e immaginabili perché almeno fino alla scorsa gara fino a prima di abu dhabi si poteva dire vabbè sainz ha avuto delle gare opache e tutto quanto però in classifica è lì e davanti alle clerk è quarto adesso è settimo è arrivato settimo arrivare in campionato con la ferrari è da licenziamento in tronco come io dissi in passato come ho detto tante volte carlos sainz perché non è un top driver non è un top driver perché non è costante alterna delle gare geniali a delle gare dove sembra che non abbia mai guidato una macchina di formula 1 in vita sua e quando carlos sainz ha dei momenti negativi i suoi non sono momenti negativi ma sono periodi negativi quando sainz ha una gara negativa tu sai già che andrà male anche nelle successive due tre gare e questo ha avuto delle ripercussioni gigantesche sulla classifica di campionato sua e purtroppo anche sulla classifica dei costruttori della ferrari e ok la ferrari sarebbe quasi certamente finita davanti alla mercedes senza lo scandalo del tombino di las vegas ok però magari come ho detto prima sainz così come ha sbagliato la frenata di curva 1 partendo merdesimo forse l'avrebbe sbagliata anche partendo secondo quindi forse la penalità di sainz lo va un po a salvare che gli crea un po un alibi per andare a giustificare la sua settima posizione in campionato e la sconfitta della ferrari nel campionato costruttori perché altrimenti sarebbe stata tutta colpa sua la colpa sarebbe stata tutta pioppata su carlos per il weekend di gara veramente orribile che ha fatto ad abu dabi ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare non ha fatto una cosa giusta non ha fatto una cacchio di cosa giusta l'unica sessione in cui non ha fatto errori è stata la prima sessione di prove libere dove non correva neanche perché in macchina c'era schwarzman a per il resto sale in macchina per la fp2 subito muro in qualifica si fa eliminare in q1 in gara non è mai in lotta per i punti a questo punto facevate correre schwarzman almeno peggio di così non sarebbe andato è veramente qualcosa di è stato è impresentabile un pilota così non è da ferrari un pilota così poi science abbiamo avuto modo di vedere che in altre gare invece si è comportato da fenomeno ha fatto quel trittico di gare olanda italia singapore dove era a dir poco fenomenale però delle gare fenomenali così vengono completamente oscurate da periodi di down che che a carlos e sono periodi lunghi all'inizio stagione ci ha messo sei sette gare per tornare a regime la prima gara veramente buona di science è stata quella di spagna che cos'era la settima gara ed è completamente sparito dai radar carlos nell'ultima parte di campionato non puoi guidare la ferrari con degli up and down del genere di rendimento carlos se quest'anno avesse avuto una macchina da mondiale non avrebbe mai poi mai lottato per il mondiale con una simile incostanza di risultati quindi science non è un pilota con cui puoi sperare di vincere un mondiale e ormai c'ha 30 anni ormai c'ha 29 anni non è un pilota giovane che può migliorare vediamo vediamo adesso chiaramente correrà almeno almeno per l'anno prossimo in teoria vediamo un po che cosa combinerà però non serve a niente fare delle gare delle gran gare come monza singapore e olanda se poi le alterni con delle prestazioni del genere poi per il resto grandissima prestazione grandissimo finale di stagione per charles clerc che cerca in tutti i modi di tenere a galla la ferrari nella sfida contro la mercedes leclerc è lasciato però da solo a combattere da solo contro la mercedes perché science non aveva voglia e quindi la ferrari perde anche quello che sarebbe stato cioè sarebbe stata comunque una stagione disastrosa per la ferrari perché l'obiettivo della ferrari era quello sostanzialmente di vincerle tutte perché ha detto già dalla presentazione che la ferrari non avrebbe avuto precedenti in termini di velocità quindi anche se la ferrari fosse finita seconda sarebbe stata una stagione disastrosa ma anche se avesse vinto il mondiale sarebbe stata una stagione disastrosa dipende come lo vinceva il mondiale se avesse vinto il mondiale all'ultima gara sarebbe comunque stato un disastro perché l'obiettivo a quanto pare era quello di dominare il campionato non solo di vincerlo ma qui sto abbastanza divagando per il resto dai si segnala ad abu dhabi ma un po anche dai nelle ultime gare in generale una timida ripresa di sergione perez con tre podi praticamente nelle ultime tre gare diciamo tre podi perché comunque ad abu dhabi è stato penalizzato secondo me in maniera anche piuttosto un po troppo severa il podio secondo me se lo meritava per quello che ha mostrato in pista quindi abbiamo un perez che può guardare con ottimismo alla prossima stagione sulla base delle decenti prestazioni che ha ottenuto in questo finale di stagione in timida ripresa anche russell che chiude il campionato con un podio regalato dalla penalità di di perez è una stagione veramente orribile comunque quella della pilota mercedes e deve ringraziare la penalità di di perez altrimenti la mercedes avrebbe perso la posizione nel campionato costruttori della ferrari e sarebbe stata tutta 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 colpa sua perché quest'anno è veramente mancato il giovane talento della mercedes e deve ringraziare chiaramente anche il tombino di las vegas deve ringraziare anche i commissari di gara che hanno comunque penalizzato carlos sainz sulla griglia di las vegas diciamo che queste cose qui successe a las vegas e la penalità di perez qui ad abu dhabi hanno fatto tirare un gran bel sospiro di sollievo a rassel perché altrimenti la mercedes avrebbe perso la posizione nei costruttori solo e soltanto per colpa sua comunque dai rassel può essere anche abbastanza contento almeno di questo finale di stagione perché le sue prestazioni rispetto a quelle di lewis emilton sono state nettamente superiori nelle ultime gare intendo è la sua stagione nel complesso è stata disastrosa ma nelle ultime gare rassel ha di fatto asfaltato un lewis emilton veramente opaco evanescente raramente l'ho visto così così male emilton insomma come in queste ultime gare di questo campionato molto bene la mclaren con norris e oscar piastri con lando norris che c'è lando norris è arrivato a pari punti con fernando alonso 206 contro no un punto di un punto dietro rispetto ad alonso leclerc 206 per charles e fernando contro 205 di norris ma norris ha iniziato il mondiale in austria norris ha iniziato il suo mondiale praticamente a luglio e ha raggiunto alonso leclerc e norris cioè se la mclaren si fosse presentata con una macchina competitiva sin dall'inizio del campionato norris come minimo finiva terzo ma poteva forse puntare anche al secondo posto in campionato forse noi non ci rendiamo conto della stagione che ha fatto lando norris vorrei sottolineare poi 205 punti di lando contro 97 di piastri e piastri è stato doppiato in campionato nonostante la gente dice che ormai piastri è a livello di no piastri ormai ha già raggiunto il livello di norris e norris si deve preoccupare ma preoccupare cosa che piastri è finito più che doppiato piastri è finito più che doppiato in campionato e ha ottenuto solamente 23 punti in più di stroll 23 punti solamente in più di stroll con stroll che ha fatto una stagione orrenda stroll tutti dicono anche giustamente che non meritava rinnovo del contratto e piastri più o meno a parità di macchina nel complesso nel complesso della stagione con solo 23 punti in più invece ha fatto una stagione fenomenale vabbè sarà che stroll sta antipatico a tutti e che piastri è simpatico non lo so grandissimo finale di stagione per l'alfa tauri e per yuki tsunoda che si mette in luce qui ad awdabi con una grandissima gara condizionata anche un po negativamente da una strategia non proprio impeccabile dell'alfa tauri altrimenti poteva forse anche sperare in qualcosa di meglio dell'ottava posizione grandissimo duello nel finale con emington che riesce a tenere dietro ad ulteriori riprova di quanto emington fosse opaco in queste ultime gare tsunoda bravissimo e tutto quanto però ragazzi però ad abu dhabi è sempre andato forte tsunoda adesso non è che dobbiamo dire non possiamo dire a tsunoda ha fatto una super gara qui ad abu dhabi adesso è un fenomeno adesso merita rinnovo vita in alfa tauri tutto quanto no perché ad abu dhabi è sempre andato forte nel 2021 nella sua annata d'esordio ad abu dhabi è finito quarto è finito quarto certo aveva una macchina più competitiva di quella di quest'anno però occhio a dire a zunoda è migliorato è arrivato ottavo ad abu dhabi si è tenuto dietro a emington a zunoda adesso sì che è migliorato no perché ad abu dhabi andava forte anche nella sua stagione d'esordio così anche come ad esempio un'altra gara doveva forte il barene in barene è sempre andato forte zunoda anche quest'anno in barene è nato forte è arrivato undicesimo fuori dai punti però ha corso bene è nato forte però non è che si può dire a zunoda è migliorato in barene è nato forte no perché è sempre andato forte zunoda va sempre forte nelle stesse piste e fa sempre schifo nelle stesse piste ormai da quando ha debuttato e quindi io dirò che zunoda è migliorato quando inizierà ad andare forte anche sulle altre piste insomma e quando inizierà a limitare un po le cagate stile quella del messico che col senno di poi la cagata che ha fatto in messico ha tolto la possibilità all'alfa tauri di andare a sopravanzare la williams perché è finita dietro di tre punti e lì in messico zunoda stavo ottenendo ben più di tre punti prima dell'errore contro oscar piastri comunque un buon finale di stagione nel suo complesso per il giapponese anche va detto merito dell'alfa tauri che comunque ha migliorato la macchina nell'ultima parte di stagione però se non altro adesso con queste ultime gare di campionato se non altro adesso diciamo che il rinnovo di zunoda diciamo che ha avuto un senso diciamo che non è al 100% immeritato anche se però pensando che c'è il liamloson a spasso liamloson a piedi insomma mi viene comunque un po male a pensare che zunoda sarà in formula 1 anche l'anno prossimo cioè non è per carità zunoda in formula 1 ci può stare però se per avere zunoda devi rinunciare a loson devi lasciare a piedi loson non tanto se devo essere se devo essere sincero e poi niente per quanto riguarda gli altri piloti non penso che ci sia molto da dire vedete qui le pagelle in sovrimpressione anzi vedete contemporaneamente sia le pagelle dei piloti che le pagelle dei team sono vieni fuori veramente una cosa troppo lunga io direi che per questo video è tutto ma prossimamente dico prossimamente perché non voglio fare dare delle date precise perché non so quando avrò tempo spero di riuscire a farlo durante le vacanze natalizie insomma ho in programma chiaramente di pubblicare un video con il pagellone di fine stagione dove andrò per ogni pilota a fare il voto medio di tutti i voti che gli ho dato nel corso del campionato e andrò a parlare di ogni pilota partendo dal pilota con la media a voto più bassa fino ad arrivare al pilota con la media a voto più alta probabilmente anzi certamente sarà un episodio diviso in due perché non voglio parlare 20 secondi non voglio dedicare solamente 20 30 secondi a pilota come fanno altri per far venire un video non troppo lungo ma voglio dedicare a ogni pilota che sia De Vries che sia Sargent che sia Verstappen che sia Leclerc che voglio dedicare tra virgolette lo stesso tempo cioè ne voglio parlare in maniera approfondita insomma di ogni pilota non è che di De Vries ne parlo 5 secondi e di Verstappen ne parlo 10 minuti no voglio dedicare il giusto tempo a ogni pilota quindi dividerò l'episodio in due e poi in un altro episodio separato ci sarà il pagellone relativo ai team dove anche lì farò il voto medio dei team sia per quanto riguarda la competitività della macchina che per quanto riguarda la gestione della gara insomma la gestione strategica affidabilità e tutto quanto e anche lì inizierò partendo dal team con il voto la media più bassa fino ad arrivare poi al team con la media più alta e con questi video qui con questi pagelloni si andrà a chiudere Formula 1 Real Talks 2023 e poi penso di fare un video prima dell'inizio della stagione prossima dove farò una sorta di pronostico non sono sicuro ma probabilmente lo farò magari dopo i testi invernali e poi magari a fine stagione 2024 farò un video dove farò il confronto fra il pronostico e quello che è successo per davvero per vedere quante ne ho azzeccate e quante ne ho canate e niente direi proprio che per questo video è tutto l'appuntamento per quanto riguarda Formula 1 Real Talks è per il pagellone Grazie Grazie